Ah, Gossip News, ciao! Che emozione è stata per te lavorare con un maestro come tornatore? È stata una grandissima emozione, una dopo l'altra a Venezia, poi anche a Toronto. Un'altra grande emozione è stata quella di Toronto, dove il nostro film davvero è stato applaudito e ci è stato dimostrato un enorme affetto proprio. Tu da dove vieni? Qual è la tua città natale? Io sono siciliana, sono nata a Paternò e ho vissuto a Pachino, provincia di Siracusa. Il nome poteva sembrare origini un po' esotiche? Invece siciliana Doc.